Ok, notizia appena giunta da Top Calcio 24, Juve annuncia la rescissione o non rinnovo, la separazione a fine anno con Massimiliano Allegri, un allenatore la quale dobbiamo toglierci tanto di cappello perché ha vinto tantissimo, in Europa ha fatto bene, non benissimo, ma comunque alle finali ci è arrivato, un allenatore che è vero che aveva una corazzata, una squadra quasi impeccabile, però è sempre difficile confermarsi e confermarsi nel modo in cui si è confermata la Juve dando sempre ampio distacco agli avversari, quindi tanto di cappello d'Allegri. Molti tifosi della Juve esulteranno ragazzi, si parla di Zidane che comunque ha poca esperienza, ha vinto perché è una squadra eccezionale con tanto di blasone, si parla di Deschamps, nome meno caldo e meno appetibile per i tifosi e si parla soprattutto di Guardiola, il preferito dalla dirigenza dall'asse Paratici Nedved, però il più blindato dalla propria squadra Manchester City. Allora ragazzi non vuol dire che se l'allenatore cambia, cambia in meglio la squadra, che significa? Ormai questi giocatori da anni, da anni, da almeno 2000 giorni sono abituati ai metodi, al sistema, al gioco, alla concezione di gioco e l'attitudine di Allegri, ok? Quindi non è detto che se domani arriva Guardiola iniziano subito a praticare Guardiolismo, ci vogliono i giocatori giusti e quindi ci vuole anche uno stravolgimento da parte della rosa della squadra, ok? Tu Matuidi non gli puoi far giocare il tiki-taka, il possesso palle esasperato che potrebbe farti giocare un Guardiola, quindi non è detto che se arriva un allenatore più blasonato del grande Allegri, la Juve possa migliorare. Ricordiamoci che questo è stato l'anno, l'anno, dove la Juve si è dimostrata la più debole Juve degli ultimi 3-4 anni minimo. Quindi con questo terremoto societario gestionale delle panchine, la Juve rischia realmente di indebolirsi ancora di più e di far finire un ciclo, ok? E lì squadre come l'Inter, la nostra Inter, deve approfittarne dando di più in fase di calciomercato quest'estate perché si può inserire nella fine ciclo della Juve ragazzi. Non facciamoci scappare questa occasione, non ci demoralizziamo se la Juve va Zidane o Guardiola. Non è detto che sono degli approdi migliorativi perché cambia tutto. Il campo è quello che dopo ci dà il reale riscontro di ciò che avviene, ok? Il gioco può essere anche più spettacolare, ma magari la concezione di gioco, ma magari non hanno i giocatori adatti per giocarlo, ok? Io a Mrecan non lo vedo questo centrocampista così tecnico, ma a Tudi non lo vedo un giocatore così tecnico, ok? De Sciglio non lo vedo tanto terzino da Guardiola. Alexandro è in discesa, Chiellini tra un po' giocherà con la prostata, Barzagli si è ritirato, Bonucci è sempre stato un sopravvalutato, quindi un appello alla nostra società di musi gialli, ok? Di musi gialli come il Mignon. Per favore approfittatene, inseritevi in questo terremoto giuventino, inseritevi sciacallando su questa loro instabilità attuale perché sta cambiando l'allenatore, sta cambiando molto, prima se ne va Marotta, poi Allegri, si parla di una faida interna tra Paratecinedved che la pensano diversamente da Agnelli, quindi approfittatene ora in fase di merito, indebitatevi, mettetevi il passamontagna, andate a rubare, ma portateci 3, 4, 5, 20 fenomeni, 20 giocatori, ho fatto il video sul calciomercato che vi metto il link, giocatori che costano non tantissimo, non voglio salare messi, però giocatori che fanno la differenza, approfittatene perché la Juve, se canna l'allenatore, rischia di finire il ciclo e lì il primo che arriva apre il proprio ciclo, ok? Chi si trova nel momento giusto, al posto giusto, apre il ciclo. Ok, quindi domani è stata convocata una conferenza stampa per ufficializzare, far vedere che se ne va in modo cordiale Allegri e niente, Allegri non è più l'allenatore della Juve. Ultime due partite e poi Raus. Questo è il punto del discorso, se siete tifosi dell'Inter iscrivetevi al canale, se non siete tifosi dell'Inter spolliciate su o spolliciate giù, è indifferente? Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Avanti Inter, avanti Curva Nord.